Senti, ci sono dei personaggi che ti sono più vicini, che hai sentito, insomma, che ti hanno lasciato un segno, che magari interpretando quel personaggio hai scoperto anche qualcosa di te? Succede, succede talmente che è quasi mistico, bizzarro, dicono che life imitates art. La vita imita l'arte. Sì, ma non so se è l'arte che imita la vita, non so se parare, ma possono succedere, o sembra che, magari che, sai quella cosa che quando, quando solo metà di voi potete capire, quando sei incinta inizi a vedere tutte le donne incinte, dotata per tutto, no? Ma di solito non li vedi, magari, non noti, ma quando succede a te, allora cominci a vederli intorno. Ed è così un po' quando stai concentrando, esplorando un ruolo, un'emozione, un'esperienza del tuo personaggio, che nella tua vita sembra che le cose che sono parallele a questo personaggio, sembra che vengono al superficie e cominci a sentire che sei uguale a questa persona. E io spesso questa cosa, che sto preparando un ruolo e mi piace, mi piace, mi piace, e non vedo l'ora di iniziare e poi un giorno o due, prima di iniziare, non capisco più chi è, non capisco più chi è nel ruolo, penso, non mi piace questo personaggio, è tutto straniero, no, 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 si inizia e poi entra un paio di giorni, sto parlando di quando facevo ruoli principali, con un ruolo principale, prende intensamente, dal terzo giorno in poi non puoi più dividere come sei tu da questo personaggio, ogni cosa che dicono o decisione che fanno o opinione che hanno è la tua e pensi se sarei io in questi panni farei esattamente la stessa cosa e poi finisci soddisfatto che il lavoro è finito e dimentichi e poi un anno dopo vendi i film e pensi ma chi è questa qui? E ti capita spesso di rivederti sullo schermo, il piacere di rivederti? No, purtroppo no, 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 all'inizio era una trauma perché, sai, già sappiamo come ogni tanto brutto vedere le foto, no, è un po' scioccante, soprattutto quando altri dicono no, 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 è una bella foto, come stai bene? No, così non sto bene? Allora vuol dire che di solito sto ancora peggio e sentire la voce registrata, sapete quel orrore di sentire come gli altri ti sentono? immagini di modificare per dieci questo orrore e così vedersi sullo schermo, vedere cosa fa la tua bocca quando parli e gli occhi quando guardi di là o il dietro di la testa o come cammini è orrendo e ci ho messo 5-6 anni per abituarmi a questo shock che così potevo guardare il film e non più, dai, abituarmi e non essere troppo traumatizzata e quindi avevo, non so, 28, più o meno 28 anni e ho iniziato a vedere i miei film quindi 5-6 anni e poi ho iniziato a vedere il crollamento, l'invecchiamento e poi vedevo solo quello, a un certo punto non potevo più andare alle giornalieri perché no, non ero più curiosa, era meglio di no perché la vanità personale c'è, ce l'abbiamo tutti grazie